Nato comunque da una nobile famiglia, eccetera, siciliana, con tutto un passato, antica, eccetera, sembrava che il suo destino dovesse essere segnato in un certo modo. E invece non lo era perché lui comunque era illegittimo. E quindi secondo me questo ha portato al fatto che lui si creasse da solo il suo destino. E a un certo punto della sua vita, e tra l'altro nelle lettere secondo me è molto chiaro, lui dice va bene, adesso io vivo come voglio vivere io. Perché in un certo senso sono nobile ma anche non lo sono. È vero, sono figlio di mio padre ma sono anche illegittimo. Non ho vissuto con mia madre, ho vissuto con mia nonna che in un certo senso, in una casa che non ho mai in un certo senso riconosciuta come mia, ha fatto sì che si sentiva in fondo slegato da tutte le regole che poi peraltro da lì a poco, con gli anni 60, 70, sono anche cadute in disuso in tutta la società in un certo senso. E secondo me è stata questa sua irregolarità a dargli la libertà, cioè la saputa sfruttare per diventare libero e per diventare veramente se stesso come era lui. Era libero di testa già da bambino, perché già nelle lettere quando era ragazzino si vedeva che era questo suo gioco nel travestire il suo amico Pottino e travestirlo come il Kaiser di Germania per divertire la nonna. È quello che poi ha fatto durante la guerra, questi traversimenti per passare le linee. Per cui, secondo me, già in erba, leggendo le lettere di lui bambino, capivi che è quello che poi lui ha fatto tutta la vita. Lui ha tutta la vita, ha preso la vita per scherzo, per gioco, ed era assolutamente libero.